Quintino Sella era l'ottavo di 20 figli di una famiglia di tessi di Belliesi, è stato uno scienziato, un ingegnere specializzato in mineralogia, con una preparazione internazionale, da studente ha girato per mezzo a Europa, in Prussia, Parigi e in Inghilterra, però Quintino Sella è ricordato come il ministro delle finanze per l'eccellenza, c'è ancora la sua mitica scrivania al Ministero del Tesoro ed è stato il Ministero del Tesoro dell'Unità d'Italia, ha dovuto affrontare un periodo molto difficile ed è riuscito dopo l'Unità d'Italia a ricoprire tutti quegli ingenti costi che i Savoia avevano speso per riunire il Regno e raggiunse con una politica molto rigorosa il pareggio di bilancio statale. Quintino Sella è stato anche uno dei grandi esponenti della destra storica che purtroppo appunto si è estinta alla fine tra l'Otto e il Novecento. Volendolo ricordare è stato anche un grande alpinista, fu tra i primi a scalare la cima del Brighton, una delle più impegnative del Monterosa, fu il primo a salire sul Monviso e solo un impegno di governo gli impedì di anticipare la spedizione inglese per arrivare al Cervino. In fin dei conti però verrà ricordato come essere un borghese, definiamolo grande grande, di altri tempi, rigoroso, appartenente a quella borghesia che in Italia probabilmente non è mai esistita davvero se non nella testa di uno sparuto gruppo di politici e di intellettuali. Di sicuro nel Parlamento di oggi si sarebbe sentito un marziano. Grazie. 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 Grazie.